I carabinieri, dopo una dettagliata perquisizione effettuata all'interno dell'abitazione di un uomo di Milano, hanno potuto rinvenire un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. È stato tratto in arresto Daniele Fazio, trentenne, disoccupato e con precedenze specifici. In casa quasi un chilogrammo di hashish, 74 dosi di cocaina, per un complessivo peso di 27 grammi, 71 grammi di marijuana e 291 grammi di sostanza da taglio, verosimilmente amido di riso, oltre ad un bilancino di precisione e un coltello da cucina, materiale utilizzato per il confezionamento. I carabinieri hanno arrestato anche una donna per furto di energia elettrica. Sono stati i carabinieri della tenenza di Floridia. Hanno tratto in arresto una casalinga floridiana che utilizzava la linea elettrica pubblica per illuminare sia il proprio casale adibito adibitazione che una dependance. La donna è stata rimessa in libertà come disposizione dell'autorità giudiziaria di Siracusa. I carabinieri hanno arrestato anche Michele Brancato, 52enne, per furto aggravato di energia elettrica. In particolare l'uomo aveva corso anche un serio rischio per la propria incolumità, aveva divelto il contatore normalmente installato, allacciando l'impianto elettrico della propria abitazione alla rete pubblica. Livorno, Giampieri, Milazzo, Sarno. È lunga la lista delle tragedie enunciate per le inefficienze burocratiche, amministrative e per l'incapacità atavica di mettere mano a progetti che una volta esecutivi possono condurre ad una diminuzione del rischio idrogeologico e ad una maggiore protezione della vita di tutti i cittadini. Ad intervenire sulla questione è Meetup Siracusa. Il Movimento 5 Stelle sottolinea che l'autunno 2007 alle porte si attende all'ennesimo probabile lubrifagio, con le conseguenze che da anni sono sotto gli occhi di tutti anche a Siracusa, il territorio messo in evidenza soprattutto quello di Villaggio Miano. Sono anni in cui si segnalano all'amministrazione i rischi a cui sono sottoposti residenti di Villaggio Miano. Non c'è stato autunno che questi sfortunati concittadini non si siano trovati immersi nel lango e nel fango e che hanno invaso le loro case e le loro attività commerciali e messo a rischio la loro incolumità. Da Meetup e 5 Stelle ricordano la beffa di un progetto dicono attualmente inefficiente e incompleto come quello del flammigerato canale di Gronda che da anni non trova una soluzione definitiva. Gara di solidarietà nei locali della circoscrizione Grotta Santa in via Barresi ad annunciarla la presidente della circoscrizione Pamela Lamesa. Bisogna agevolare gli studenti e in particolare le famiglie bisognose del quartiere Grotta Santa. Questo è il motivo per cui si è attivato una raccolta di zaini, di astucci, di colori e di quaderni. La scuola per i più piccoli, dice Lamesa, ai ragazzi da sempre rappresenta sia una gioia per allacciare nuove amicizie sia per la conoscenza di un mondo da scoprire. Ma non è solo una favola, anzi la maggior parte delle famiglie siracusane la scuola è un salasso da sostenere. Nel quartiere Mazzarroni insistono nuclei monoreddito con tre e quattro figli in età scolare. Diventa difficile procurargli il materiale scolastico. Per tale motivo abbiamo ascoltato e risposto alle esigenze del nostro quartiere. Sull'istituzione del Parco Nazionale degli Iblei arriva l'osservazione e proposta di modifica da parte del coordinatore del Movimento Ecologista Fare Ambiente ai liberi consorsi della provincia di Siracusa, Ragusa e Catania. Si permette che il Movimento Ecologista ha come obiettivo quella dell'istituzione di un parco nel rispetto dell'ambiente dell'antropizzazione agro-silvo-pastorale. Nelle sedute di concertazione dell'istituendo Parco degli Iblei è emersa la volontà in parte condivisa anche dal commissario straordinario del Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa di razionalizzare la zonizzazione dell'istituendo Parco. Per fare ambiente bisogna ridurre le aree di protezione, quelle di livello di tutela 2 di color giallo a oltre 500 metri di altitudine, seguendo le cartografie standard già esistenti in materia di orografia del territorio, mantenere le riserve integrali e le riserve generali indicate nella leggenda della tavola del livello di tutela 1 di colore verde, mantenere le aree SIC e ancora le indicazioni dei centri abitati di color grigio, ampliare poi le aree di promozione economica e sociale facendo parte della medesimo ecosistema. La ZES, la zona economica speciale della Sicilia orientale, è un'occasione di sviluppo e di nuovo lavoro. Interviene così il sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo sulla ZES presentata proprio dal ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno ieri a Catania. La ZES interessa le aree portuali dove i privati potranno effettuare investimenti godendo di crediti d'imposta e di defiscalizzazioni. Di fatto, dice il sindaco Garozzo, le imprese avranno un consistente abbattimento delle tasse e un'opportunità appetibile per partecipare allo sviluppo di una vasta area portuale che tende a conservare la centralità del Mediterraneo nei traffici via mare. Per quanto riguarda Siracusa, dice Garozzo, stiamo ragionando su un piano di recupero e riqualificazione nella zona adiacente al Porto Grande che si integrerà con la sua destinazione croceristica e diportistica. La ZES interessa i comuni di Siracusa, Catania e Augusta. Assicurato il pagamento degli stipendi di tutto il personale dell'ex provincia di Siracusa per tutto il 2017. Abbiamo avuto notizia, così conferma il commissario straordinario del libero consorzio Giovanni Arnone, attraverso la fattiva interlocuzione con l'assessore regionale l'onorevole Bruno Marziano, che in attuazione della legge regionale che attribuisce 21,5 milioni di euro ai liberi consorzi comunali e alle città metropolitane, è stata approvata il 13 settembre della giunta di governo la deliberazione con cui vengono assegnate le risorse finanziarie. Al libero consorzio di Siracusa è stata assegnata una quota significativa pari a circa 8,3 milioni di euro, che dovrebbe consentire, unitamente ad altre risorse assegnate dalla regione, di assicurare gli stipendi al personale. Un ringraziamento lo rivolge Arnone, al presidente della regione, alla deputazione regionale siracusana che si è prodigata per l'importante risultato. Per discutere della situazione economica finanziaria dell'ente, il commissario Arnone ha convocato una riunione con i sindacati. Un concerto di musica jazz in concomitanza con i festeggiamenti del 2750 anni della fondazione della città di Siracusa, è quanto organizzata dalla sovrintendenza nel sito di Castello Magnace. La sovrintendenza ai beni culturali e ambientali renderà aperto alla pubblica fruizione a titolo gratuito il sito di Castello Magnace a partire dalle ore 21, per dare l'opportunità alla cittadinanza di assistere a una delle due tappe italiane di Mario Romano Quintet. Grazie a tutti.